Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi vi parleremo del grave lutto che si è abbattuto sul famoso gruppo di tenori italiani, Il Volo. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Una persona molto conosciuta dal gruppo musicale Il Volo, che include Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto, è scomparsa all'età di 35 anni. Il gruppo, noto per il successo del brano Grande Amore, è stato recentemente al centro di voci su possibili separazioni e carriere soliste, in particolare per Barone. La persona scomparsa è Maria Miceli, una ballerina di danza classica che ha guadagnato fama grazie proprio al videoclip della canzone Grande Amore. Laureata in lettere e archeologia, Maria ha lasciato un segno in indelebile nel mondo della danza e tra i fan del gruppo. La sua prematura scomparsa ha causato grande dolore tra chi la conosceva, inclusi i membri del Volo. Originaria di Brescia, lottava da tempo con una grave malattia che alla fine l'ha portata via. Il Volo ha espresso il proprio dolore per la perdita attraverso alcuni messaggi scritti sui social, sottolineando quanto Maria fosse stata importante per loro. La sua scomparsa è stata descritta come una perdita gravissima, inaspettata e profondamente sentita sia nel mondo della musica che della danza. La ragazza lascia un ricordo commosso in coloro che le volevano bene, evidenziando l'impatto che ha avuto sulla vita di molti. Il suo contributo all'arte e la sua battaglia contro la malattia rimarranno un esempio di forza e talento, mantenendo vivo il suo ricordo nei cuori di tutti. E tu cosa ne pensavi di Maria? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.